Nonostante Juve e Inter si siano prese le attenzioni di tutti i maggiori siti di informazione calcistica per gli acquisti comunque clamorosi di Vlaovic e Gosens oggi voglio parlarvi in due video di due argomenti legati al calciomercato giallorosso da molti considerato interrotto dopo gli acquisti di Metal and Knights e Sergio Oliveira e le contemporanee le cessioni di Villar, Borca, Majoral e Reynolds ma che secondo me può ancora riservare qualche novità almeno fino alla fine del suddetto calciomercato. Oggi voglio portarvi due video legati a due possibili arrivi e una cessione nel centrocampo giallorosso reparto secondo me destinato ad ulteriori modifiche non solo in questa sessione di mercato ma anche nella prossima perché abbiamo bisogno di migliorare sia a livello numerico che qualitativo questo reparto secondo me il più importante per poter aprire un ciclo non dico vincente ma comunque positivo di qui fino a tanti altri anni a venire. Lo avrete letto dal titolo oggi voglio parlarvi di Granit Shaka ne abbiamo parlato tantissimo in questa nella sessione di mercato estiva visto che il giocatore sembrava ad un passo dal vestire la maglia giallorossa poi purtroppo delle complicanze di mercato come vari infortuni cessioni improvvise e accordi inaspettati tra giocatore e club inglese hanno interrotto il tutto ciò nonostante però non è detto che il giocatore non possa vestire la maglia della roma non solo a gennaio ma anche a giugno stando però agli ultimi aggiornamenti sembra che la roma si sia rinformata ulteriormente con l'arsenal per acquistare il giocatore già a gennaio e per poter fare ciò c'è bisogno di due novità non solo legata la roma ma anche la juve adesso vi spiego bene come funziona come funziona la cosa il triangolo delle bermuda diciamo l'arsenal può cedere shaka potrebbe cederlo tranquillamente non è un giocatore così importante per loro ma giustamente serve un sostituto non solo a livello qualitativo ma anche proprio di giocatore che può emettere gli a centrocampo di buone qualità e la juve potrebbe aiutarci perché è in uscita arthur centrocampista bianconero che interessa proprio all'arsenal se il giocatore dovesse andarsene appunto nel club inglese chiaramente l'arsenal sarebbe tra virgolette costretta a cedere un altro centrocampista un buon discorso che stiamo facendo noi in questi ultimi giorni dopo aver sostituito biancon sergio oliveira e sistemato così il centrocampo non puoi prendere un giocatore se prima non ne cedi un altro perché a livello numerico ne hai fin troppi da dover sbolognare in questo caso qualora arthur dovesse vestire la maglia dei gunners shaka diventerebbe a tutti gli effetti un giocatore sacrificabile ed è qui che entra in gioco la roma che però a sua volta deve fare lo stesso identico discorso con il già nominato tantissime volte amadu diavarà si sta parlando in questi giorni anche di una possibile cessione di veretù ed è l'argomento di cui parlerò nel secondo video ma la reputo un po complicata soprattutto da sistemare in questi pochi giorni di mercato poi la juve in un giorno si è presa avlavic quindi non mi stupirei di nulla però considerando appunto quello che deve fare la roma sia in entrata che in uscita dubito che un giocatore come veretù venga ceduto così all'improvviso a pochi giorni dalla fine del mercato invernale diavarà invece al contrario è un giocatore in uscita un giocatore che non è mai interessato particolarmente a murigno che lo ha fatto giocare col contagocce facendogli capire fin da subito che non è parte centrale del progetto giallorosso poi qualcuno sta dicendo che il giocatore si era convinto poi che invece adesso vuole restare alla roma è una situazione un po' intricata e si devono incastrare diversi fattori tra cui la volontà del giocatore una squadra che fa un'offerta congrua perché comunque tu hai speso tanto per il suo acquisto essendo stato inserito nell'affare manolas quindi un minimo di guadagno ce lo devi avere quindi riuscire a sistemare tutti in pochi giorni non è cosa facile quello che però è sicuro almeno secondo me è che se tu riesci a vendere diavarà un altro giocatore al suo posto deve arrivare il primo nome fatto in questi ultimi giorni era quello di camarà del marsiglia che però si è un po' allontanato non tanto per una questione economica perché essendo il giocatore in scadenza ti verrebbe a costare relativamente poco quanto più per l'interesse di tanti altri club che potrebbero offrirgli un ingaggio molto superiore tra cui il già citato manchester united di conseguenza se ovviamente lo metti di fronte a delle scelte di questo tipo è chiaro che va che è probabile che vada nella squadra inglese essendo in un campionato più bello e più importante di quello italiano e guadagnando anche più soldi al suo posto sinceramente non essendo tifoso della roma lo farei anch'io quindi è chiaro che la situazione sia un po' complicata anche se non è detto che il giocatore alla fine non possa vestire la maia giallorossa ciaca al contrario o sciaca chiamatelo come volete è un'opzione più percorribile per diversi motivi innanzitutto perché quest'estate già ci avevi trovato un accordo quindi il giocatore verrebbe tranquillamente a vestire la maia della roma anche se poi quando l'affare non è stato più fatto ha fatto frasi al miele verso l'arsenal e sono sempre stato felice di stare qua quando in realtà sappiamo che l'ha detto semplicemente perché non si è trovato l'accordo con la roma se no sarebbe stato già a vestire la maia della roma dicendo le stesse cose però rivolte ai nostri colori quindi già c'è stata una base di accordo in estate adesso tu potresti farlo anche perché il giocatore è ancora di più fuori dal progetto dell'arsenal ha trovato comunque il suo buon spazio perché diverse prestazioni comunque diverse presenze le ha fatte ma non al livello che i tifosi si aspettavano il che mi fa ridere perché comunque è vero che puoi essere contento della sua permanenza però se prima non era riuscito ad inserirsi bene non è che si rinnova e rimane al 100% è sicuro che migliora il suo rendimento ci sono stati casi di questo tipo che giocatori magari in scadenza erano calati un po poi dopo il rinnovo sono migliorati è un po raro però succede perché spesso e volentieri è più probabile che i giocatori partano piuttosto che rinnovino il contratto come appunto è successo con tanti altri giocatori che non vi so che dire però è chiaro che se il giocatore era in uscita prima con il rinnovo semplicemente tu ti togli il pensiero di perderlo a zero perché comunque l'ipotesi cessioni rimane alta ed è qui che appunto entra in gioco la roma io sinceramente vi dico la verità qualora dovesse venire ciaka sarei contentissimo lo ero anche in estate e ovviamente voglio confermare questo mio pensiero anche a gennaio è chiaro che se tu vedi che quelli prendono Vlaovic quello prende Gosens eccetera eccetera qualsiasi acquisto fai anche un eventuale ciaka sarebbe un po riduttivo però dobbiamo capire che attualmente non siamo al livello di queste squadre la juve ha fatto un gran colpo ma come ho detto devi sistemare anche altre cose per poter dire di essere definitivamente tornata in lotto per lo scudetto l'inter allo stesso tempo è una squadra che lotta per il vertice tu attualmente devi tornare prima in champions league poi se riesce a darti continuità al progetto facendo più magari qualificazioni champions consecutive puoi pensare appunto di alzare un po l'asticella ma ora come ora non possiamo paragonarci a squadre di questo tipo per il momento poi molti dicono eh loro possono spendere tu sei stato massacrato dal fair play finanziario e questo è vero la roma ha dovuto fare tantissime cessioni per evitare guai come non qualificazioni alle coppe europee o cose ancora più gravi queste invece nonostante i problemi economici che hanno spendono come gli pare però da non esperto di di mercato e di cifre soprattutto non voglio dire nulla non voglio fare il classico opinionista paesano dicendo è come fanno a spendere non lo so perché magari qualche modo lo ce l'hanno e non lo so quindi non voglio voglio evitare di dire cavolate e dire semplicemente la mia per quanto riguarda la roma concludendo il discorso sciacca è sicuramente un obiettivo della roma sicuramente no però è un nome che interessa perché la roma è chiaro vuole fare un altro colpo quello secondo me è indubbio murigno ha detto che il mercato è chiuso che non si aspetta altri colpi ma è evidente che se parte uno a centrocampo un altro non tanto vere tu come ho detto ma di avarà si può pensare di fare un acquisto in più e per me se tu mandi via di avarà ad una cifra discreta o al torino o al valencia o qualsiasi altra squadra e ti prendi uno tra sciacca e camarà hai fatto un mercato invernale di altissimo livello considerando le disponibilità economiche che hai e le spese che hai fatto nello scorso calcio e mercato avresti rinforzato la squadra in più reparti soprattutto il centrocampo che come ho detto è quello fondamentale per poter ripartire al massimo e l'abbiamo visto in queste ultime partite e soprattutto daresti un segnale alle squadre come fiorentina lazio eccetera eccetera che con te si lottano un posto in europa non tanto champions quanto più europa league poi pensando appunto che abbiamo coppa italia e conference league da portare avanti avresti allungato la rosa a livello numerico e qualitativo ed è una cosa importante per raggiungere questi obiettivi o perlomeno portarle avanti nella maniera più importante possibile vediamo un po cosa succederà ma secondo me sciacca per noi sarebbe un grande giocatore qualità tecniche non indifferenti bravo con i piedi bravo con gli assist non riesce non ha paura comunque di gestire la palla e sa anche mandarla precisamente sa battere le punizioni sa battere i rigori come sergio liveria per me sarebbe un acquisto azzecatissimo però vediamo un po se quelle che sono per ora soltanto delle semplici voci si trabuteranno prima o poi in verità un saluto ragazzi ci vediamo più tardi per il secondo video di giornata sempre comunque forza roma e alla prossima